Contro lo spostamento del Tribunale all'ex ospedale San Camillo, maggioranze e parte dell'opposizione in Consiglio Comunale a Chieti dicono un secco no dal momento che già c'è un progetto approvato dal Ministero sulla Cittadella della Giustizia in centro. Il sindaco Ferrara mostra il rendering del progetto della Cittadella dotata di edifici collegati al Tribunale che ospiterebbero procura, giudici di pace in una piazza San Giustino rimessa a nuovo e che sarà inaugurata a breve. Sì, ma allora perché questa verata? Guardi, il perché bisognerebbe chiederlo al Presidente Marsilio io non sono nella sua testa. Posso dirle solamente che il progetto della Cittadella della Giustizia che il Comune di Chieti ha redatto già da un anno e sottoposto ad una prima approvazione da parte del Ministero della Giustizia. Per questo progetto occorrerebbe una somma di denaro enormemente inferiore rispetto a quella che invece verrebbe impiegata per la ristrutturazione dell'ospedale San Camillo. 8 milioni di euro rispetto ai 37 che il Ministero dovrebbe spendere e al di là di questo ci sarebbe il problema dello spopolamento del centro, come dice il capogruppo della Lega Mario Colantonio. Il Tribunale è decentrato rispetto al centro storico per un progetto annunciato sul San Camillo, ex ospedale San Camillo, che non è, io non voglio dire che non sia Chieti, però è una zona periferica di Chieti. Chieti perderebbe la presenza del Tribunale al centro storico, la presenza della Procura al centro storico, la presenza del Giudice di Pace al centro storico. Colantonio si pone, pone una domanda ben precisa. Io mi chiedo perché non sia stato acquistato il Tribunale dalla provincia di Chieti, quando è stato venduto all'Infimit, dal Ministero non è stato acquistato il Tribunale, e soprattutto sul Tribunale dove sono stati spesi 6 milioni e 400 mila euro per l'adeguamento sismico, cosa ci si farà con quell'edificio, un RSA al centro di Chieti? Più che perplesso anche il Sindaco Ferrara sul decentramento possibile del Tribunale. Nessuno di noi riesce a capire questo intendimento della Regione. È vero che anche la ASL è in condizioni economiche non floride, però pensare ad un problema contabile, Regione-ASL, pensare a questo mi vengono i brividi perché fondamentalmente Chieti ne uscirebbe fortemente penalizzata.